Ciao, sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito di formazione professionale per operatore della produzione artigianale di parianteria nei comuni della provincia di Pesaro Urbino. L'obiettivo è quello di formare una figura professionale in grado di realizzare impasti, di occuparsi della spezzatura e della formatura dei prodotti, di curare il processo di levitazione, di cottura, di finitura e decorazione degli stessi. L'operatore della produzione artigianale di panetteria opererà in piccoli contesti organizzativi. Il corso ha una durata di 500 ore e sarà articolato in 140 ore di lezioni in aula, 160 ore di laboratorio, 200 ore di stage in azienda e 8 ore di esame finale. Il corso, in collaborazione con Formacomf, Consorzio per la Formazione e il Lavoro, si terrà presso la loro sede, SITA, in strada delle Marche numero 58 a Pesaro. Partecipa al corso gratuito finanziato dalla Regione Marche e non esitare a contattarci o a visitare il nostro sito www.ialmarket.it oppure www.formacomf.it per avere ogni informazione necessaria. Ti aspettiamo!